cari amici tanti saluti da Serafino Massoni oggi è sempre domenica 17 ottobre 2010 vedete bene il titolo del video Dio e il Demiurgo e c'è una lettera qua dell'amico blogger Danieli lo vedete Danieli quale dice che si trova in Giappone si chiama vabbè cosa privata è originario dalla provincia di Trento e attualmente dice vivo in Giappone per motivi di studio pensate voi che bello in Giappone per motivi di studio bellissimo e gli dice che appunto non rivelo il nome il cognome però dice che il suo pseudonimo appunto è Danieli e dice che avrebbe piacere di conoscere qualche cosa sulla figura del Demiurgo il Demiurgo e la lettera è molto lunga va bene la ringrazio per l'attenzione eccetera 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 il Demiurgo non lo si deve confondere con Dio sono due cose un po' cioè molto molto diverse e il Demiurgo la figura del Demiurgo la troviamo per la prima volta in maniera coerente nella filosofia di Platone e Platone sapete bene che fra la grande distinzione dell'essere l'essere viene diviso da Platone in un essere vero che è il mondo delle idee e in un essere effimero che è il mondo materiale e però deve superare Platone il problema di quale rapporto ci sia tra il mondo delle idee e il mondo delle idee che è una sorta diciamo così di paradiso cristiano diciamo così va bene abbiamo il dualismo platonico va bene il mondo che poi anche il dualismo cristiano e c'è questo mondo delle idee al cui centro c'è l'idea del bene e qua sotto ci sarebbe il mondo materiale il mondo effimero il mondo dell'apparenza però si tratta di stabilire da dove ha preso vita questo mondo delle apparenze nel quale noi viviamo e allora Platone un po' come il nostro Cartesio sapete Cartesio che aveva diviso la materia in rex cogitans e rex extensa che aveva dovuto inventare il thread union quella che chiamò la ghiandola pineale non si riesce a capire se facciamo una separazione tra materia e spirito cioè se non si imbocca la strada del buddismo che parla di una interazione continua tra materia e spirito tra materia e energia tra materia e energia e Buddha non è un caso che Albert Stein abbia definito il buddismo l'unica religione compatibile con la fisica contemporanea se non si abbraccia un pensiero coerente come quello del Buddha per il quale c'è una continua trasformazione tra materia e energia una continua interazione e allora se si fa come Cartesio e poi come Platone si fa una netta separazione e poi si deve inventare qualcosa per mettere in contatto queste due realtà nettamente separate il povero Cartesio dovete inventare la ghiandola pineale e Platone poveretto dovete inventarsi il Demurgo il Demurgo sarebbe una divinità inferiore, molto molto inferiore, una divinità tuttavia che vede lassù la bellezza del mondo delle idee vede qua giù la materia bruta e che fa questo Demurgo? prende la materia bruta e cerca di aggiustarla alla maniera del mondo delle idee però siccome non è una divinità vera e propria è una divinità ma inferiore un po' come dire un po' balorda lui copia, copia dal mondo delle idee però le copie copia dagli originali che sono il mondo delle idee però le copie gli vengono un po' male per cui questo mondo qua, questo mondo effimero è il mondo della negatività questa è la figura classica del Demurgo che ci appare in filosofia anche se io tante volte ho notato in diversi video che vedo un collegamento tra la filosofia platonica e la religione ebraica il Dio Yahweh, il Dio Yahweh onnipotente nel Dio Yahweh onnipotente mi pare di vedere un pochettino il mondo delle idee un poco, un poco in ogni caso di certo c'è che l'ebraismo crea una religione nettamente separata dalla materia crea un Dio separato dalla materia un Dio che crea tutto ex nihilo e la stessa cosa fa Platone c'è questa grande separazione tra materia e spirito tra questo mondo qua e il mondo lassù quindi vedo un collegamento tra la filosofia platonica e la religione ebraica ma poi però le cose vanno avanti perché l'amico qua non è che si limita a chiedermi di parlare del Demurgo platonico troppo facile, troppo semplice e lì mi chiede di parlare del Demurgo delle religioni del neocristianesimo ai tempi della nascita del cristianesimo dei primi secoli dopo Cristo perché esiste un Demurgo proprio nei primi secoli dopo Cristo quando nascono le religioni ma anche il pensiero gnostico il pensiero gnostico e allora io a questa questione del Demurgo del Demurgo ho dedicato il romanzo La lama e la rosa Francesco Aliberti editore e poi ha avuto tanto successo questo romanzo che è stato preso dalla gas editrice Hachette vedete Hachette il quale l'ha portato in tutte le edicoli italiane per ben due volte nella collana i codici segreti della storia e io faccio riferimento al Demurgo cioè questo romanzo che è ambientato tra la fine del 1100 dopo Cristo e la prima metà del 1200 dopo Cristo ai tempi delle crociate della nascita del tribunale dell'inquisizione al tempo delle grandi battaglie dei cattolici contro gli eretici catari ecco io ho approfondito la questione del Demurgo proprio perché i catari i valdesi quelli che abitavano nella Provenza proprio perché dicevano che questo mondo è in mano del Demurgo i catari nel 1100 1150 1200 1250 dicevano che il mondo è in mano al Demurgo in pratica è in mano a Satana e a questo dio Balordo viene trasformato addirittura in una sorta di Satana per i catari questo dio che noi adoriamo il dio che si adorava al tempo dei catari e che ancora oggi continuiamo ad adorare non sarebbe il vero dio ma sarebbe appunto il Demurgo il Demurgo però che al quale il vero dio ha dato pieni poteri sarebbe un luogotenente del vero dio il vero dio se ne sta lontano e si fida di questo suo luogotenente questo suo luogotenente invece è un poco di buono che governa il mondo in maniera malvagia e poiché i catari dicevano sostenevano l'eresia catara il cuore dell'eresia catara sapete qual era? va bene va bene va bene il cuore dell'eresia catara era che poiché il primo ordine di questo dio malviaggio Demurgo che viene collegato al dio degli ebrei il primo ordine era stato siate fecondi e moltiplicatevi allora per i catari per i catari e in mezzo ai catari c'erano tantissimi ebrei siamo nel 1100 1150 1200 1250 dopo Cristo e in mezzo ai catari c'erano tantissimi ebrei per i catari questo dio il dio di questo mondo altro non è che il dio Yahweh degli ebrei ma il dio Yahweh degli ebrei per i catari non è il vero dio il vero dio se ne sta lontano in quello loro lo chiamano il pleroma il pleroma una zona puramente spirituale se ne sta lontano e si fida di questo suo luogotenete una specie una specie di lucifero diciamo così vero padrone del mondo un vero lucifero il quale avrebbe sistemato il mondo così come lo vediamo noi pieno di sventure allora siccome il primo ordine di questo dio malvagio sotto dio sotto dio che sarebbe poi il dio Yahweh il demiurgo dei catari altro non è che il dio Yahweh degli ebrei quale fu il primo ordine quale fu quale fu il primo ordine fu siate fecondi e moltiplicatevi è perché se l'umanità muore su chi su chi può comandare su chi può comandare questo demiurgo che sarebbe altro non sarebbe che il dio Yahweh degli ebrei secondo l'interpretazione che ne danno gli eretici cadari o valdesi siccome il primo ordine di questo dio no di questo sotto dio di questo demiurgo che altro non sarebbe che dio Yahweh del vecchio testamento il primo ordine fu crescita e moltiplicatevi e allora che cosa dissero i cadari i cadari o valdesi o alpicesi dalla città di Alpi che cosa dissero cosa dissero e tu vuoi che noi ci moltiplichiamo cioè che ci uniamo uomo e donna e facciamo i bambini e no e noi quello è stato il tuo primo ordine se noi non ubbidiamo il tuo primo ordine tu non hai più potere su noi e noi non li facciamo più i bambini non li facciamo più i bambini e avevano inventato tante tecniche amorose diciamo così anticoncezionali facevano le cose brutte di dietro sì 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 proprio così facevano le cose brutte di dietro e facevano le cose brutte anche con in forma con la bocca con la bocca capito in maniera che lo sperma non andasse nella sua sede naturale e loro loro moltiplicarono le tecniche d'amore non è un caso che poi nella provincia ci siano stati tanti trovatori i trovatori quelli che se ne vanno in giro i ministri che se ne vanno in giro di corte in corte e cantano le canzoni d'amore alla cosa lì alla dama del castello alla dama del castello al trovatore di Giovanni Bersi diciamo nel 1815 1816 va per la selva bruna assolingo il trovator domato dal ricordo e la fortuna e la voce sua si bella la dispiegò il dolor la voce del cantor non è più quella se ne andavano di corte in corte a cantare le serenade alle dame del castello però in pratica volevano portarsi da letto le dame del castello e quando il signore del castello se ne accorgeva riprendeva calci per questo qua va per la selva bruna assolingo il trovator e per questo che nella provincia sorsero tanti trovatori e per forza c'era lì c'erano i cateri le avevano inventate tutte le tecniche le tecniche del rapporto sessuale le facevano tutte meno quella che conduceva a fare i bambini è chiaro che poi il papa disse oi questa eresia qua era il tempo dell'islam i cristiani dovevano guardarsi dall'islam e dicevano prima dobbiamo sconfiggere i cateri prima perché l'eresia dei cateri è peggiore dell'islam è chiaro perché l'eresia dei cateri se si espandeva questa eresia e l'umanità finiva perché non volevano più fare figli i cateri non volevano più fare figli d'accordo? anzi avevano scocitato anche delle tecniche per il suicidio avevano scocitato anche delle tecniche per suicidarsi comunque non volevano più ubbidire dicevano che non dobbiamo più ubbidire a quell'ordine là siate fecondi e moltiplicatevi perché era stato dato da Yahweh solo che Yahweh non era il vero Dio era il governatore del pianeta Terra il vero Dio se ne stava nascosto chissà dove quello che era chiamato il pleroma e si fidava di Yahweh alias il diemurgo il diemurgo questo ovviamente secondo l'interpretazione che ne danno gli eretici nel medioevo e gli ignostici ma come può nascere l'idea ma come fa a nascere l'idea che il Dio Yahweh non sia il vero Dio ma sia invece un semidio malvagio un semidio malvagio come fa a nascere quest'idea come fa a nascere quest'idea questa idea nasce grosso modo nel primo secolo dopo Cristo o anche all'inizio del secolo dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme nel 70 dopo Cristo il tempio di Gerusalemme viene distrutto e inizia l'esodo degli ebrei a quel punto lì gli ebrei cominciano a disperare cominciano a disperare perché loro avevano sempre ritenuto di essere il popolo eletto e qua invece il tempio viene distrutto la città viene distrutta e il popolo ebraio è costretto ad emigrare in tutto il mondo e i pensatori ebrei cominciano a disperare quindi nel primo secolo nell'80 90 100 dopo Cristo 110 120 130 dopo Cristo e nelle comunità ebraiche che si erano diffuse in tutto l'impero romano e cominciano a sorgere dei dubbi nei confronti di Yahweh e tanti cominciano a dirsi ma vuoi vedere che Yahweh quello che noi pensavamo fosse il nostro Dio non è lui il vero Dio non è lui il vero Dio e magari è un Dio malvagio nasce il pensiero gnostico nasce nel primo secolo dopo Cristo si diffonde nel secondo secolo dopo Cristo e entra in contrasto durissimo col cristianesimo nascente è perché per il cristianesimo nascente invece Dio è Dio e il Dio degli ebrei è il vero Dio degli ebrei solo che ora c'è il Dio dell'amore il Dio Cristo Gesù il Dio Cristo che è il vero Dio e non si può non può il cristianesimo nascente nella sua maggioranza non può accettare che ci sia ci siano forme di pensiero soprattutto negli ambienti ebraici dell'impero che dicono che no che il Dio degli ebrei non è il vero Dio è il Demiurgo una specie di diavolo al quale ci si deve ribellare perché il cristianesimo non la può accettare questa interpretazione per cui il pensiero gnostico viene contrastato e sconfitto già al suo nascere poi strisciando strisciando arriva sino al 1100 1200 dopo Cristo e sfocia nella grande resia catera anche se l'ognosticismo poi serpeggia un po' in tutta l'Asia minore l'Europa orientale e poi la sua manifestazione è più forte nella città di Albi in Provenza e vedete che le cose in cerchio si chiude il cerchio si chiude e per cui rispondo all'amico Danieli ecco qua la situazione com'è la figura a parte la figura filosofica del Demiurgo Demiurgo platonico che sul piano logico fa ridere i polli perché se è filosofia però lì non c'è nulla di logico in questa filosofia platonica che inventa il Demiurgo e invece è più credibile il ragionamento che viene fatto nel 70 dopo il 70 dopo Cristo quando i romani distruggono Gerusalemme poi ci saranno ancora altre distruzioni di Gerusalemme perché avrà distrutta diverse volte Gerusalemme però già quella distruzione lì del 70 dopo Cristo porta la disperazione al popolo ebraico e in alcuni posti gli ebrei cominciano a pensare che si sono sbagliati che il Dio Yahweh il Dio del Vecchio Testamento non è il vero Dio e nasce l'ognosticismo ma l'ognosticismo tra il primo secolo e il secondo secolo dopo Cristo viene duramente combattuto dal cristianesimo dai padri della patristica viene fortemente combattuto non si poteva consentire che che vincesse la teoria definita eredica per la quale il Dio Yahweh non era il vero Dio ma era un Dio balordo un diavolo un diavolo non si poteva consentire perché allora allora un simile ragionamento chiunque lo avrebbe fatto anche potuto fare anche nei confronti del Dio Cristo che sta alla base della regione cristiana infatti fu sconfitto e non ebbe diciamo si dovettero rifugiare gli gnostici si dovettero nascondere e continuare il loro pensiero gnostico pessimistico nei confronti del Dio Yahweh e poi anche del Dio cristiano e nascosti 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 arrivarono sino all'alba dell'umanissimo arrivarono sino al 1250 1300 e poi dopo diciamo con la contro riforma più tardi con la contro riforma la chiesa prese il sopravvento e le eresie scomparvero dal mondo cattolico però continua poi l'ognosticismo l'ognosticismo e continua nel pensiero scientifico e il pensiero scientifico dice il pensiero scientifico gnostico dice questo Dio è un Dio malvagio è un Dio il demiurgo questo è un Dio malvagio noi uomini dobbiamo da soli combattere contro questo Dio malvagio poi l'ognosticismo si può dire che diciamo che si convoglia nell'indirizzo scientifico l'indirizzo scientifico altro non è che l'antico l'antico gnosticismo l'antico gnosticismo che esaltava la potenza dell'individuo dell'essere umano nei confronti di questo semidio inferiore malvagio e si convoglia nella nella ricerca scientifica ricerca scientifica però l'altro peraltro non è che abbia fatto cambiare la situazione degli uomini perché io evidenzio sempre che religione o scienza pari sono in quanto anche con i progressi della scienza della tecnica anche con le magnifiche sorte progressive tutti gli uomini continuano a nascere piangendo a morire piangendo e altro che morire piangendo e che tra la nascita e la morte c'è sempre un percorso di sofferenze ecco caro amico questa è la storia del demiurgo capisci in breve Serafino Massone ti ha fatto la storia del demiurgo e sulla questione qua dell'eresia catara o albigese c'è questo mio romanzo storico la name e la rosa apparso nella collana i codici segreti della storia della casa editrice ma c'è ancora oggi presso la casa editrice Francesco Aliberti editore va bene spero di aver esaudito il desiderio che hai espresso nella tua lunga lettera ti ringrazio per questa bella sollecitazione ti saluto e saluto anche tutti voi cari amici e a tutti voi cari saluti da Serafino Massoni a